ma dove siamo? non lo so, 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 ciao a tutti ragazzi, oggi siamo un po', qui siamo ARMS, per giocare, ovvio, io ho già scelto il personaggio, tu hai scelto il personaggio, tu hai scelto il personaggio, facciamo casuale tutte e due, su casuale, tre, due, uno, che ha fatto? mh corre! vai vai uno, brava uno, no che essere! no! no 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 no, grazie! ma perché sei in Kimo over? non lo so no dove io ne so perché io ne so ah ok no arredisco vada 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 ah ok madone io non mi ricordo più niente io mi guardo tutto vada guarda vada 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 li sparcheremo adesso vieno no no perchè iiii oh non mi ricordo un caucho aia aia no è quando ero ghiacciata mi voglio fare la presa oh aia aia no tu un colpo va bene no no dai dai però dai però dai però perchè non ti prendo mai non lo so è la fisica del gioco oh va è mio no ma ancora siamo venuti lo so sei bruciato no 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 non ci prendo oh ci ho vinto ho vinto davvero di video dai avevi visto un super potere il culo dai oh che culo dai sono super potere dai vai 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 ne so ti ammazzo eh ne so ti ammazzo eh no no eeeh no c'è fuori pure asia la iubi doi il culo c'è il culo dino acum amicit c questo è il vostro non mi sento no ok ragazzi abbiamo fatto lo schermo a posto perchè io non sapevo niente vai iniziamo io faccio scusate l'ultimo round no 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 Sì! 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 Non ci si! Oh! Sì! 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 Cosa? Muore tu! Muore tu! No! L'hai sentito? Sì! L'hai sentito? No! Sì! Sì! Alla rega! Ma tu è quel lì! No! Questa è la mia schiena! Questa è la mia schiena! Questa schiena! Dai! 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 Il robot non vai! Sono giorno! Sì! Ma lei non c'è la mia! Io non c'è la mia! Ok! Ma che cacchio di armi hai messo? Ma guarda la mia! Waah! Aah! viewers! Ho trovato! C'èku! Non è vero sono lentissimi! Sì! Ah Giulia Giulia Eccola Eccola Oddio Eccola Porca Toma No Dai Siamo perché ci ha detto il mio potere Non ci credo Non ci credo Non ci credo Vabbè Stai 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 Qui già Sono volando No Che schifono Dai Non ci credo 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 Come non ci credo Non ci credo Non cago Non ci credo Ma com'è lo ti ho perso Dai Toy KAYOM Eccd Eccd Ehi mo, f***a, f***a Ehi mo, 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 f***a Nooo Uuu, no Senti fuoco? Tu Senti da bene? Ehi Ehi mo, f***a Dai! Senti da bene? Oh, è rotto! È rotto! È rotto! Dai! Uoooo Uuu No! Sai I Si Si Uuu Oh! Oh! Sto spaccato, eh! Yeah! Come è il personaggio? Eh... Come è il personaggio? Ok Facciamo l'ultima, ok? Ok Oh! Deve durare tanto Il mio tutto è casuale No, casuale Casuale 3 2 1 No! Ah vabbè! L'ho messo qua! Ah, avversato Ehi 2 2 2 3 3 8 8 2 Stai tutti peccati! Si! Si! No! No! Let's go baby! No! Cover it! Let's go! No! No! Si! Si! No 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 no! No 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 no! No, no no no! Oh! Dock! Oh! No! No, no no no! No, no! Ciao, start! Mamma! Non c'è la risposta! Oh, hai visto? dai perchè hai preso quella? vai è rotissima dai 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 hai rotto hai rotto hai rotto si va bene ragazzi si va bene è rotto no vai dentro oh oh ma hai visto? ma chi sono? ma chi sono? oh oh ma chi sono? ma vieni il video di oggi finisce qui spero che mi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto qui ci vediamo qui ci vediamo grazie grazie grazie